Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandolarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa la volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa e riconoscerti per tutti il mio Signore, mio Dio. Ti dono il mio volere. Ti dono il mio volere, mio Dio. Mi regno del Fiat Supremo, mio Dio. Ti dono il mio volere, mio Dio. Mi regno del Fiat Supremo, mio Dio. Gesù, non sapendo io stessa dove mi trovassi, se nell'inferno o sulla terra, come lampo che sfugge, appena l'ho visto che diceva, chi si trova nella via della vera virtù, chi si trova nella via delle virtù sta nella mia stessa vita, e chi si trova nella via del vizio si trova in contraddizione con me ed è scomparso. Poco dopo, in un altro lampo a soggiunto, la mia incarnazione innestò l'umanità alla divinità, e chi cerca di starsi unito con me, con la volontà e con le opere e col cuore, cercando di svolgere la sua vita a norma della mia, si può dire che cresce nella mia stessa vita e dà lo sviluppo all'innesto da me fatto, aggiungendo altri rami all'albero della mia umanità. Se poi non si unisce con me, oltre che non cresce in me, non dà nessuno sviluppo all'innesto, ma siccome chi non sta con me non può avere vita, quindi con la perdizione si scioglie questo innesto. E di nuovo è scomparso. Dopo ciò mi sono trovata fuori di me stessa, dentro un giardino dove stavano varie macchie di rose, alcune belle sbocciate in giusta proporzione, quasi semi chiuse, ed altre con le foglie tutte cadenti, che appena ci volevo un leggero movimento per farle sfrondare, restando il solo gambo della rosa, nudo. Ed un giovane, non sapendo io che fossi, mi ha detto le prime rose sono le anime interiori, che operano nel loro interno. E sono simboleggiate dalle foglie della rosa che si contengono nell'interno, dando un risalto di bellezza, di freschezza, di solidità, senza timore che qualche foglia cada per terra. Le foglie esterne sono simbolo dello sboccio che fa l'anima interiore all'esteriore, che avendo vita da dentro sono opere profumate di carità santa, che quasi luci colpiscono gli occhi di Dio e del prossimo. Le seconde macchie di rose sono le anime esteriori, che quel poco di bene che fanno, tutto è esterno, ed è a vista di tutti. Onde non essendo uno sboccio dell'interno, non ci può essere la sola mira di Dio ed il solo suo amore. Onde dove non c'è questo, le foglie non possono essere radicate, cioè le virtù. Onde va il leggero soffio della superbia e gli fa cadere le foglie. Il soffio della confiacenza, dell'amor proprio, della stima altrui, delle contraddizioni, mortificazioni, ed appena la toccano le foglie vanno per terra. Sicché la povera rosa resta sempre nuda, senza foglie, restando le sole spine che le pungono la coscienza. Dopo ciò mi sono trovata in me stessa. Capitolo 19, 3 ottobre 1903 Mentre stavo pensando all'ora della passione, quando Gesù si licenziò dalla sua madre per andare alla morte e si benedissero a vicenda, stavo offrendo quest'ora per riparare per quelli che non benedicono in ogni cosa il Signore, anzi, lo offendono, e per impietrare tutte quelle benedizioni che ci sono necessarie per conservarsi in grazia di Dio e per riempire il vuoto della gloria di Dio come se tutte le creature lo benedicessero, mentre ciò facevo, me lo sono sentito muovere nel mio interno, diceva Figlio mio, nell'atto di benedire mia madre intesi pure di benedire ciascuna creatura in particolare ed in generale, di modo che sta tutto benedetto da me. I pensieri, le parole, i palpiti, i passi, i movimenti fatti per me, tutto, tutto sta valorato con la mia benedizione. Anzi, ti dico che ciò che fanno di bene le creature, tutto fu fatto dalla mia umanità per fare che tutto l'operato delle creature fosse prima da me divinizzato. Oltre di ciò, la mia vita continua ancora vera e reale nel mondo, non solo nel Santissimo Sacramento, ma nelle anime che si trovano in grazia mia. Ed essendo molto ristretta La capacità delle creature, non potendo afferrare una sola tutto ciò che io feci, faccio in modo che in un'anima contiene la mia riparazione, in un'altra la lode, in un altro il ringraziamento, in qualche altro lo zero per la salvezza delle anime, in un'altra le mie sofferenze, e così di tutto il resto. A seconda che mi corrispondono, così sviluppo la mia vita in loro. Quindi, devi pensare in quali strettezze appena mi mettono, mentre io voglio operare in loro, e quelli non mi danno retta. Detto ciò, è scomparso, ed io mi sono trovata in me stessa. Bene. Sono diversi gli insegnamenti e le suggestioni che ci suggeriscono questi due capitoli. Il primo si fonda su questo principio fondamentale che ci consente anche di comprendere esattamente quello che Gesù, quello che è il Verbo di Dio, meglio operato con l'incarnazione. Tanto per far capire il concetto, San Giovanni Paolo II, nella prima enciclica, nella Redempto Romanis, scrisse queste parole, che devono essere interpretate, che sono esattamente qui spiegate da Gesù. Disse, il Verbo di Dio, divenendo uomo, in un certo senso, in un certo modo, si è unito ad ogni uomo. Ora, qui spero di riuscire, perché questo è un concetto teologico un pochino sottile, però importante da comprendere. Allora, chi si è incarnato è la persona del Figlio di Dio. Nel concilio di Cancedonia, la Chiesa, facendo copia e incolla con le geniali intuizioni di San Leone Magno, ha provato a spiegare, per quanto è possibile comprendere a noi mortali, perché si tratta di misteri, che cosa è l'unione ipostatica, che è quella che ha realizzato il Verbo di Dio. ipostatica in greco significa unione secondo il soggetto, cioè secondo la persona. Cioè, cosa significa? Significa che la persona del Verbo di Dio, quindi del Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, nel momento stesso in cui la Madonna ha detto Fiat, si è appunto incarnata, quindi cosa significa? significa che immediatamente quella prima cellula umana, concepita per opera dello Spirito Santo nel grembo di Maria Santissima in cui la Trinità infuse l'anima razionale, è stata immediatamente assunta, questo è il termine tecnico, nella seconda persona della Santissima Trinità, di modo che questo ognuno ne fosse indissolubile. Però, quando si parla dell'umanità Santissima di Gesù, appunto si dice che è una vera natura umana come la nostra, ecco, però, ecco il concetto sottile, l'umanità di Gesù non dà origine ad una persona umana, una persona umana, secondo anche la nostra definizione, è un individuo specifico che fa parte della razza umana, quindi è una specificazione particolare di un genere, ecco, in Gesù non è così, è sbagliato dire la persona umana di Gesù, anzi è un'eresia ed era l'eresia di Nestorio, perché? Perché Gesù non è una persona umana, è il figlio di Dio che ha unito a sé una vera natura umana come la nostra, cioè un corpo animato di un anima razionale, che queste sono tutte quante questioni teologiche complicate, niente affatto, perché Gesù ha detto la mia incarnazione innestò, attenzione, l'umanità alla divinità, dire che ha unito a sé una natura umana creata e non che il verbo sia unito ad una persona umana, come se adesso per assurdo, come se il verbo si fosse unità a me dopo che sono stato concepito, ecco, significa che nella natura umana di Gesù sono contenuti tutti gli esseri umani in cui la natura umana si specifica, si sostanzia, cioè tutte quante le persone umane appunto come un innesto, perché questo innesto abbia vita e sia fecondo ed efficace come Gesù spiega di cosa c'è bisogno che l'anima riconosca questa realtà, riconosca Gesù come figlio di Dio, lo accorga, riceve i sacramenti e faccia la vita di grazie, perché altrimenti questo innesto oggettivo che Gesù ha realizzato con l'incarnazione come qui spiega, quando si perde definitivamente con la perdizione si scioglie questo innesto. Ecco perché San Giovanni Paolo II diceva in un certo senso con l'incarnazione il verbo di Dio si è unito ad ogni uomo, perché da un punto di vista oggettivo tutta l'umanità, cioè tutte le persone della specie umana che furono, sono e saranno, sono contenute nell'umanità del vero. Ecco perché poi Gesù spiega anche una cosa che poi diventerà proprio come dire, un light motive della liberazione sulla sola divina volontà, quindi abbiamo un prodromo, tutto ciò che di bene fanno le creature, tutto fu fatto dalla mia umanità per fare che tutto l'operato delle creature fosse prima divinizzato e questo come è stato possibile per questo per questo innesto oggettivo e ovviamente per la potenza della divina volontà in cui operava l'umanità santissima di Gesù e soprattutto per il fatto che questa unione dell'umanità di Gesù con la divina volontà fosse un'unione appunto realizzata per natura perché il supposito in cui quella natura umana agiva era la seconda persona della santissima trinità quindi questo è fondamentalissimo questo cioè si vede anche la fondatezza diciamo rigorosa da un punto di vista teologico delle affermazioni che si trovano in questi scritti queste sono assolutamente come dire da un punto di vista teologico dogmatico tra l'altro perché qui non è una teoria queste cose sono diventate dogme di fede con il consiglio di Calcedonia assolutamente diciamo come dire inoppugnabile blindato al cento per cento e quindi a partire da questo Gesù spiega che semplicemente chi vive nella virtù cresce nella mia stessa vita e dà lo sviluppo all'innesto da me fatto aggiungendo altri rami all'albero della mia umanità che ci fa pensare che ci fa pensare questa frase subito Giovanni 15 no io sono la vite voi tralci ogni tralcio che me porta frutto il padre lo pota ogni tralcio che non porta frutto lo taglia la perdizione no senza di me non potete fare nulla perché se noi non facciamo nostro volontariamente l'innesto oggettivo che Gesù ha realizzato tra la mia persona umana e la sua natura umana la sua vita non può scorrere in me vedete come qui sempre ritorna e anche questa è perfettamente in linea con la grande tradizione dogmatica no cattolica circa il funzionamento della grazia cioè la grazia di Dio ha sempre il primato precede accompagna e compie ogni cosa in modo tale che ne è la condizione necessaria e imprescindibile per qualunque operazione buona che l'uomo faccia ma condizione necessaria non è sufficiente non perché non abbia in se stessa la sufficienza perché la sufficienza ce l'ha e come ma perché non può operare se non nella misura in cui l'uomo con essa coopera ad essa si apre ad essa corrisponde quindi c'è sempre questa bilatera questi concetti che sono fondamentalissimi ma questi sono concetti dell'antropologia e della teologia cattolica proprio in senso proprio stretto sono punti fermi diciamo così inoppugnabili della rivelazione pubblica che Dio ha fatto sono continuamente richiamati in questi scritti io quando li leggo li vedo istantaneamente appena leggo una cosa dico guarda 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 e adesso poi Gesù spiega quanto bene funziona questo innesto e quando funziona meglio l'innesto funziona bene quando l'anima vive una grande interiorità e questo è un altro tema che fin dai primi volumi viene portato avanti da Gesù come dire non dico fino non è una cosa bella dire quasi alla nausea però è una di quelle cose che viene continuamente reiterata 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 in continuazione all'interiorità anima interiori anima interiore avere di mira solo Dio e il suo amore niente altro è una cosa continua allora in questo senso il primato dell'interiorità che certamente poi attenzione qui Gesù spiega bene alcune cose perché su questa lotta tra l'interiorità e l'esteriorità si sono sempre fronteggiati disordinatamente due filoni opposti della spiritualità cattolica chi dice che tutto interiore non serve niente all'esteriore e chi dice che serve l'esteriore perché altrimenti senza l'esteriore non c'è nessun interiore allora l'interiore è il primato ma quando l'interiore è autentico come spiega Gesù l'interiore autentico inevitabilmente si vede cosa dice Gesù le foglie esterne di queste rose belle che sono le anime interiori sono lo sboccio che fa l'anima interiore all'esteriore cioè cosa sono sono luci che colpiscono gli occhi di Dio e del prossimo cioè una persona che è come dire incamminata verso la santità allora si vede all'esterno non è possibile che non lo si veda cioè non ostenta la santità ma si vede è come una madonna no? e però possiamo anche dire al contrario attenzione che noi non possiamo mai giudicare le intenzioni delle persone no però i comportamenti si quindi quando noi all'esterno vediamo che cosa nei comportamenti delle persone facciamo un po' ad esempio arroganza superbia disprezzo del prossimo mancanza di carità ira giudizi mormorazioni maldicenze no scusate è possibile questa sia un'anima che viene da Dio un'anima sacca sicuramente probabilmente noi non possiamo giudicare le intenzioni dobbiamo pensare che la persona sia cieca che magari sia anche in buona fede che non si rende conto di quello che fa questo è quello che Gesù vuole quindi la persona e le sue intenzioni non si giudicano mai i comportamenti si capite quando Gesù parlava con gli apostoli nel Vangelo diceva guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia e questi capivano niente dice ma forse che ci manca forse dobbiamo andare a comprare il pane fanno anche ridere alcuni Vangeli no? Gesù gli dice ma siete così privi di intelletto cioè non giudicate secondo le apparenze ma giudicate con giusto giudizio è uno di quelle apparenti contraddizioni del Vangelo no? perché Gesù dice non giudicate e non sarete giudicati ecco la misura con cui misurate sarà la misura a voi in cambio poi altro altro Vangelo non giudicate secondo le apparenze ma giudicate con giusto giudizio Signore mio che già fa? devo giudicare o non devo giudicare? che devo fare? allora qui come sempre ecco perché bisogna fare molte attenzioni Gesù non dice quelle cose nello stesso senso stamattina stiamo facendo una meditazione teologico filosofica perché come dice il principio di non contraddizione due cose si contraddicono quando si dice una cosa e il contrario dell'altra cosa attenzione nello stesso senso e sotto lo stesso aspetto cioè io non posso dire A uguale a non A ma posso dire A non è uguale ad A1 c'è quel piccolo 1 sotto d'accordo che fa sembra che uno sta dicendo la stessa cosa allora qui non dice la stessa cosa Gesù perché quando dice di non giudicare non giudicare le intenzioni delle persone non dire quello è un perverso quello è un candidato all'inferno cose di questo genere perché tu non sai dentro di sé cosa gli frulla per la testa cioè Gesù nel Vangelo dice verrà il giorno in cui alcuni vi ammazzeranno e vi ammazzeranno pensando di dare gloria a Dio pensando di un buona fede capito quindi come giudica quella cosa Dio questo noi non ci possiamo entrare perché noi non siamo buoni a giudicare nemmeno noi stessi figuriamo e siamo buoni a giudicare il prossimo però è chiaro che io posso dire uccidere un'altra persona nel nome di Dio è sbagliato e chi lo fa commette un errore è uno sbaglio oggettivo a prescindere dal giudizio che si faccia quindi cosa dice Gesù nelle amine tutte le ante esteriori la prima cosa è la superbia io ricordo tutti i maestri di spirito tutti nessuno escluso quando tu vedi in un'anima viva la superbia stai tranquillo che puoi tranquillamente entrare in serio sospetto che c'è più di qualche cosa che non funziona perché nelle opere divine la superbia non scompare Gesù manda altre spie è il soffio della compiacenza dell'amor proprio della stima altrui di come si reagisce alle contraddizioni o alle mortificazioni questi sono criteri oggettivi per valutare quindi per giudicare oggettivamente sia noi se vediamo queste cose noi stessi quindi se siamo anime esteriori quindi che fanno anche vita buona e devota non davanti a Dio ma per essere notati sono anche un criterio di discernimento per il prossimo noi abbiamo delle relazioni interpersonali abbiamo come dire anche dei contatti cerchiamo tutti quanti dei maestri delle guide chi è chi è un maestro autentico chi è una guida di cui mi posso fidare attenzione a quando si vedono esterne esteriormente superbie amori propri ricerca e ricerca della stima altrui perché non sono frutti che sbocciano da un'anima che agisce solo per amore di Dio e per lui anche se pensa di farlo o se dice di farlo quindi su questo punto di vista i cristiani sono anche un pochino risoluti tu dici che sei santo e che agisci beh voglio la dimostrazione voglio vedere le opere che compi ma non per giudicare la tua persona ma per vedere se in base a quello che compi io posso darti credito di fiducia oppure no perché esistono i profeti ma esistono i falsi profeti esistono i maestri ma esistono i falsi maestri Gesù ne parla nel Vangelo e cosa dice dai frutti li potete conoscere non si raccoglie uva dalle spine né fichi dai rovi e su questo bisogna fare attenzione non ripeto per giudicare le intenzioni delle persone ma per verificare i comportamenti perché chi è innestato alla vita di Gesù cosa dice Gesù imparate da me che sono mite ed umile di cuore sono queste le due cose che dobbiamo fare attenzionissima e che si vedono all'esterno la superbia si vede all'esterno per quanto uno possa essere intelligente abita mascherano non ci vuole niente basta stuzzicare un pochino una persona basta un attimo provocarlo un po' vedere come reagisce contraddirlo non ci vuole niente non ci vuole fino a quando queste cose non scendono parecchio il maestro è molto dubbio lo spirito che muove la persona e questo penso che dobbiamo ricordarlo sia per l'esame di coscienza personale nostro e sia anche per valutare quello che accade intorno a noi ecco secondo capitoretto è tutto bellissimo il prologo con cui Luisa ci mostra l'amore con cui faceva l'ora della passione in particolare questa è proprio la prima se non ricordo male o la prima o la seconda forse è proprio la prima quando Gesù cerca la benedizione della madre e benedice la madre prima di iniziare la passione bellissimo per riparare quelli che non benedicono che non dicono il Signore per impetrare le benedizioni necessarie per conservarsi in grazia di Dio e per riempire il vuoto della gloria di Dio come se tutte le creature lo benedicesse bellissimo ecco poi Gesù ci rivela una cosa molto bella che benedicendo sua madre ha inteso benedire ciascuna creatura in particolare in che senso attenzione e qui spiega anche quello che lui aveva già fatto per noi cioè quali atti Gesù ha già fatto per noi evidentemente tutti gli atti buoni cosa può benedire il Signore può benedire i miei peccati il Signore ma certamente no qui spiega di modo che tutto sta benedetto da me i pensieri le parole i palpiti i passi i movimenti fatti per me non solo ho fatto questo ma nella mia vita terrena tutto quello che di bene fanno le creature tutto fu fatto dalla mia umanità quindi non soltanto l'ho benedetto ma l'ho già divinizzato e noi sappiamo che vivere nella divina volontà vuol dire proprio fare nostri gli atti che Gesù ha già fatto per noi e che trasformano i nostri domani in divina questa è una cosa molto semplice da fare perché basta sapere questa cosa e agire con l'intenzione di andare a fare nostri questi stessi atti questo significa vivere nella divina volontà e agire in modo divino per quanto riguarda il compimento degli atti ecco poi Gesù passa a un secondo punto con cui chiediamo molto importante e che dice certamente lui ha fatto tutto ma lui aveva una prospettiva un'apertura di orizzonte infinita perché era il figlio di Dio noi creature siamo invece limitate e ora Gesù spiega anzitutto io continuo a vivere sulla terra anzitutto nel Santissimo Sacramento e nel Santissimo Sacramento Gesù continua ad operare da Dio al 100% anche se noi lo consideriamo poco e ci pensiamo poco però Gesù vive anche nelle anime che sono in grazia anche questo ce l'ha detto nel Vangelo chi accoglie voi accoglie me chi ascolta voi ascolta me quindi significa che Gesù vive nei suoi fedeli cosa ha detto a San Paolo sulla via di Damasco non ha detto Paolo Paolo perché perseguiti i miei discepoli ma ha detto Saulo Saulo perché mi perseguiti quindi significa che Gesù vive nei suoi ecco però la vita di Gesù e questo è anche bello pensarlo e fa anche comprendere la bellezza della Chiesa e la sua pluriformità e anche la differenza la distinzione che c'è tra una persona e un'altra tra una vocazione e un'altra dice la creatura non può afferrare tutto ciò che io feci perché è limitata è ristretta allora che succede la vita di Gesù è stata variegatissima Gesù ha fatto tantissime cose allora per esempio Gesù ha speso una vita per riparare in continuazione la gloria del Padre ci sono alcune anime che trascorrono una vita per riparare in un'altra la lode in un'altra l'ingraziamento in qualche altro lo zelo per la salute delle anime in un'altra le mie sofferenze le anime crocifisse e a seconda ancora di come mi corrispondono così sviluppo la mia vita in loro anche qui i capolavori di santità sono le anime che hanno corrisposto bene a Gesù noi sappiamo che di questa corrispondenza Gesù parla nel Vangelo anche di questo è molto bello leggere scritti oggi abbiamo fatto un po' è venuta insomma leggere scritti di Luisa con un doppio sottofondo il primo che è più importante è la Sacra Scrittura il secondo che è più importante è il magistero dogmatico della Chiesa allora cosa dice Gesù nella parabola del seminatore il seme è caduto nella terra buona sono quelli che ascoltano la parola e poi producono frutto quanto ne producono 30 60 o 100 e da cosa dipende questa variabile dal tasso diciamo così di corrispondenza dell'anima al dono ricevuto dal Signore piena corrispondenza 100 per 1 buona corrispondenza 60 per 1 sufficiente discreta corrispondenza 30 per 1 ed ecco che torno ancora a questo tema così importante della nostra cooperazione con la classe che deve essere ogni giorno chiediamolo speriamolo e anche come dire lavoriamo per questo migliora rispetto al giorno prima perché la vita divina sarà tanto feconda e noi quanto maggiore campo di azione gli diamo quanto minore l'esistenza le opponiamo ecco con questo sereno ma continuo lavoro su noi stessi che richiede anche una grandissima umiltà profonda ecco e reale e chiediamo sempre al Signore che ci sono la grazia di entrare bene dentro il nostro cuore di ascoltare profondamente sempre la nostra coscienza soprattutto tante meditazioni abbiamo già fatto di toglierci tutte quante le stupidaggini che ci raccontiamo a livello cosciente ma che non sono la motivazione reale dei nostri comportamenti oppure che c'erano dei comportamenti oggettivamente insomma sbagliati sotto le parvenze le apparenze di virtù che però non sono reali ricordiamo sempre quella massima evangelica che abbiamo contemplato che dai frutti sempre si riconosce l'albero e in questo tipo di operazione oggettiva dobbiamo farla innanzitutto su noi oltre che come abbiamo visto usarla anche come sereno e pacato ma anche vero criterio di discernimento dell'operato altrui specialmente di chi si presenta come testimone come maestro o come persona che in qualche modo ci deve mettere in contatto con il Signore ecco ma deve dare le credenziali di una vita autenticamente unita allui ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. E non rendendo mai vana la grazia che il Signore ci dona, ma traendone e concedendo a Lui di poter operare liberamente nella nostra anima per prendere tutta la divinizazione delle nostre opere da Lui stesso operata, oltre che la Sua benedizione. Grazie a tutti. Per avere sempre i giusti parametri di valutazione, per non lasciarci indurre nell'errore, perché buona fede e buone intenzioni ci insegna la Sacra Scrittura non sono sufficienti per evitare l'inferno. Anzi, qualche santo ha detto che di queste ne è lastricato l'inferno. Occorre, come diceva il buon San Giovanni Battista, che si vedano frutti ed opere degne della conversione. In primis fra tutti, ecco, l'umiltà che tanto ha caratterizzato la vita terrena di Gesù è la tua, che è la santa humiltà. Nella Divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benedico per rivedarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Amen, Maria.